Buongiorno da Ilenia e da Morgana Allora, sapete che io vado a farmi il mio giretto in edicola e stamattina... Cos'è che hai trovato? Stamattina ho trovato... I munchicci! Ho trovato i munchicci Questi bamboline, erano i miei tempi, erano delle bamboline sono usciti bene o male negli anni che sono nata io quindi un po' prima degli anni 80 qualche anno prima degli anni 80 io sono vecchia e quindi quando li ho visti ho detto no vabbè, devo troppo prenderne e ne ho prese tre Allora, questa è la confezione quindi munchicci della G di edicola contiene un morbido personaggio 3D inallegato alla rivista io purtroppo la rivista non l'ho trovata a meno che non era sotto mi sono accorta a casa che c'era scritto inallegato alla rivista vabbè e poi non è più lento? dentro c'è qualcosa? no, un po' io ricordo no, questo è che sia... no, è la rivistina dentro, sì è dentro la rivista morbidissimi da accarezzare allora, costo dell'operazione se non sbaglio 3,50 euro può essere però non vedo... magari avrei il prezzo ah sì, 3,50 euro eccolo qua questi qua sono quelli che potete trovare allora non li ho tastati perché l'edicola era piena quindi i primi che mi sono venuti in mano li ho tirati su se devo essere sincera io questi non mi ricordo chi fossero le due Jackie e questo signore qua e loro vabbè mi ricordo che c'erano ai miei tempi c'erano queste io pensavo fossero scimmiette figuratevi ma c'erano queste scimmiettine che poi vabbè penso siano bambini scimmiette io avevo il pelucetto e poi comunque li trovavi un po' dappertutto erano anche nelle pubblicità dei cioccolatini forse cioccorì qualcosa del genere e possiamo trovare praticamente Artus Cauri Liffi Liffi Pollinia Nanae Bess io voglio Nanae è troppo bella anche Bess è bella Silvus Capix Willow Aiko Bess Bess io direi di aprire e vedere cosa abbiamo trovato sì allora aperture facilitate non ne vedo quindi io direi andiamo proprio allora prima guardiamo sì guardiamo prima il il librettino che hanno messo dentro che come sempre oh guarda qua ci sono ecco come i moncici eccoli qua erano così la linea di giocatori più tenera del mondo animali pucciosi parla del gatto ma comunque è bello il pittore sì è bello ah bello il volpino di pomerania qui vi fa vedere un biglietto d'auguri sì ovviamente non si vede la cippa delle filastrocche la vecchia fattoria sì come sempre quei librettini qua ci sono delle ricette e zeppole di San Giuseppe e la cassata siciliana quei librettini qua purtroppo non sono mai il massimo qua vi fa vedere ancora la checklist e qua finito allora vediamo che ho trovato sì che bella bellissima vediamo adesso quante morbide questa qua è la cosa che desideravo mamma che strana vedete com'è caspita è bellissima wow è morbidissima ma guardate il musino è fatta bene sì a parte qualche allora il musino è fatto benissimo ecco vedete poi ha questi codini la codina vedete per me è una scimmietta adesso io non mi ricordo più poi ha il suo piedistallo ce la faranno ok sì allora lei è vestita così con la salopetta la maglietta gialla con una toppa e il gomito è vero dall'altra parte anche dall'altra parte sì anche dall'altra parte è più piccolina ma allora non è il massimo della morbidezza eh però è carina mi piace proprio boh vediamo se dentro c'è qualcos'altro e no allora tocca a me mi sono introvati l'artista il libretto è uguale per tutti penso sì sì quindi il libretto via vediamo Morgana cosa ha trovato no 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 non ci credo l'artista volevo no non ci credo Morgana è doppia oh ma non è doppia gliela regaliamo alla nonna se la vuole gliela regaliamo alla nonna sono trattini tu vediamo io una assolutamente quindi vi dico già che andrò in edicola a fare spedizione punitiva a prenderli sì ho fatto fatica ecco è uguale è bellissima apri la terra o l'apro io l'apro io va bene vediamo se troviamo la terza allora via il libretto e abbiamo trovato la 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 diciamo che blitz allora come vi dicevo prima non ho tastato forse forse quando torno in edicola una tastatina gliela do cosa dici eh sì questo si attacca così lui penso che sia tipo il manigoldo della situazione è brutto però è fatto bene comunque cioè è abbastanza dettagliato si vedono i denti si vede la lingua gli occhietti le zampette con le ditine è un cos'è che può essere Morgana una salamandra una salamandra dici allora quindi come al saluto siamo state fortunate diteci chi preferite tra nanai nanai e blitz e blitz io sicuramente preferisco nanai quale dei due eh non lo so sono belle però eh e che ci piacciono belle non lo so comunque tornerò ancora alla carica con questi moncici ve lo dico già portate pazienza che andrò a prenderli tutti detto questo avendovi fatto vedere come sempre la nostra fortuna noi vi salutiamo vi mandiamo un boccino grosso spero che il video vi sia piaciuto commentate spolliciate iscrivetevi al canale se vi va poi attivate la campanellina per non perdervi tutti i nostri video perché youtube non stia mandando tutte le notifiche quindi attivatela subito e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao